Problema. Ecco sette case. In ognuna ci sono sette gatti. Ogni gatto uccide sette topi. Ogni topo avrebbe mangiato sette spighe. Ogni spiga avrebbe prodotto sette hecat di grano. Quant'è il totale del grano? I dodici allievi tirano un sospiro di sollievo. Si tratta di un semplice calcolo di progressione geometrica che non richiede uno sforzo particolare. In poco tempo tutti consegnano al maestro, uno scribe dell'amministrazione, la soluzione esatta 16.807 hecat, ossia 76.303,78 litri. Peggio sarebbe stato dover calcolare l'area di un campo frazionato in tanti appezzamenti irregolari.